San Cesario di Lecce 24 dicembre 2011, primi passi pubblici, per setto del giorno, chi punge di spada sarà ferito d'inchiostro nero annerito, il suo animo ribelle. Pietro Paolo IV, poeta Naif Salentino, con diarità. Pietro Paolo IV, poeta Nero, 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 con diarità. San Cesario di Lecce 24 dicembre 2011, primi passi pubblici, per setto del giorno, chi punge di spada sarà ferito d'inchiostro nero annerito, il suo animo ribelle. Pietro Paolo IV, poeta Nero, con diarità. Pietro Paolo IV, poeta Nero, con diarità. Grazie a tutti.